Buonasera a tutti, benvenuti alla giornata conclusiva della tredicesima festa scienze e filosofia. Leggiamo prima delle note dai nostri sponsor che sono sempre importantissimi. L'acqua che sta bevendo adesso Dario Fabri è stata messa gratuitamente a disposizione dalla società Fonti di Sasso Ivo. L'acqua prende il nome dal Sasso Ivo della Grotta dell'Orso, luogo sito nel comune di Foligno, a circa 600 metri sul livello del mare. L'azione prevalente dell'acqua di Sasso Ivo trova indicazione medica nella calcolosi urinaria e nella iperuricemia. Gli omaggi per relatori e le relatrici sono stati forniti dalla cantina Scaccia Diavoli, Cantina Terra dei Trinci, Molino Il Fattore di Luigi Tega. L'azienda Rossi, concessionaria Mercedes, ha messo a disposizione un proprio veicolo per il trasporto di persone e cose. L'azienda Narcisi Auto ha messo a disposizione un'auto elettrica per gli spostamenti in città e un'auto ibrida per gli spostamenti in città e anche fuori. Bene, allora, presentiamo questa conferenza, una giornata conclusiva, con Dario Fabri, analista geopolitico che tutti conoscono ormai, che non ha bisogno di presentazioni, che è riuscito a venire a Foligno una giornata così particolare, in cui ha rilasciato interviste fino a un'ora e mezzo fa e quindi ci onora della sua presenza nonostante la giornata molto molto particolare che ci ricorda a noi che abitiamo in un paese post-storico, per dirlo alla Fabri, che la storia invece va avanti e la fanno i paesi e gli imperi fanno la storia e noi invece viviamo in un paese post-storico e ci occupiamo di altro. Quindi la sua relazione si intitola Il leader e la colpa del mondo e ricordiamo che lui è il direttore della rivista mensile di geopolitica Domino e direttore della scuola di geopolitica Domino. Di cui tu sei un alluminoso brillante. Diciamo anche che è uscito un bel libro di Dario a fine anno il cui titolo è proprio quello che è la sua tesi fondamentale che non vorrei sbagliarlo, è geopolitica umana, capire il mondo dalle civiltà antiche al mondo moderno. Quindi do subito la parola a Dario Fabri e vi auguro a tutti una buona conferenza e alla fine, come sempre, ci saranno le domande. Grazie. Grazie Augusto. Buonasera a tutti, grazie come sempre, questo per me è il terzo anno di partecipazione qui da voi. Grazie Augusto, grazie Perluigi, mi permetto di chiamarli per nome, perché ormai abbiamo, per cui è un'amicizia storica, con Perluigi una consuetudine, un apprezzamento reciproco che mi fa molto piacere e soprattutto grazie a voi che siete qui. Chiedo scusa per il piccolo ritardo, ma appunto oggi è una giornata un po' complessa, oltre al fatto che qua fuori è oltre l'estate, siamo praticamente in un clima quasi di luglio-agostano, però Augusto, che ha sempre il posto della situazione, mi spiegava di non preoccuparmi, io come vedo l'estate mi sento morire, e invece dice no, ti preoccupare ancora non è il momento, tornerà, c'è speranza, potrebbe tornare un po' di inverno, ma insomma staremo a vedere. Di che cosa parlerò? Il titolo è quello che prima Augusto ha menzionato, cioè il leader è la colpa dei popoli, una forma di teodicea, ma con una specifica, cioè mi occuperò di Stati Uniti, proverò ad inquadrare il momento degli Stati Uniti d'America, che è un momento specifico, molto peculiare, ed è di fatto alla radice di tutto ciò che vediamo in giro per il mondo in questi mesi, potremmo dire ormai in questi anni, cioè ciò che ci sembra fuori controllo, che non riconosciamo più in questo pianeta, quindi questa forma di caos violento, di ritorno preponderante, anche come dicevi tu, della storia, ammesso che si sia mai fermato, non si è mai fermata, non se n'era mai andata, però in questa bolla, che poi è l'Europa occidentale, che è il posto dove fino adesso si è vissuto meglio, senza dubbio, specie negli ultimi decenni, la storia sta tornando in maniera prepotente, e molto di questo suo ritorno è dovuto agli Stati Uniti d'America, cioè alla fase che vivono gli americani, e di questo proveremo a parlare, cioè proverò a rispondere alla domanda, ma che cosa pensano gli Stati Uniti, che cosa li affligge, perché li vediamo così introversi, introvertiti, come intendono muoversi, come intendono rispondere al momento che vivono, eccetera, eccetera, domande che, penso di no, ma anche se ci apparissero lontane, semplicemente decideranno il mondo in cui vivremo nei prossimi anni, quindi letteralmente le vite di ciascuno di noi, e proveremo ad inquadrarle in un contesto così prestigioso com'è questa festa, quindi spiegandolo nel profondo. Prima è stato menzionato il mio libro, che si intitola Geopolitica umana, come diceva anche Augusto, è il campo principale d'applicazione del mio lavoro, quindi tra l'altro qui, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ho avuto già il piacere di parlarne proprio qui a Foligno, pochi mesi fa, la geopolitica umana è una declinazione della geopolitica, di fatto l'incrocio di più saperi, un tentativo di incrocio di più saperi dentro la geopolitica, essenzialmente la psicologia collettiva, soprattutto la storia, e anzitutto e soprattutto è ancora la storia, che dovrebbe essere, argomento 70% di argomento di studio in ogni disciplina, cioè qualsiasi declinazione, dalla scienza dura a quella liberale, il 70% dovrebbe essere storia di quel campo e del pianeta, e dei popoli del pianeta, e poi 30% la specificità di quella disciplina, mi rendo conto di chiedere troppo, in geopolitica umana ci proviamo, soprattutto vedremo che la storia, lo studio della storia, entra direttamente nel momento degli americani, lo vedremo tra pochissimo, e a questo nella geopolitica umana si aggiunge anche uno studio culturale, antropologico dei popoli, che sono al centro della sua speculazione, e da ultimissimo, forse è il passaggio più eversivo, che poi ne rappresenta la singolarità, che sta nella singolarità dell'approccio, e anche del modo di esprimersi della geopolitica umana, cioè provare a calarsi nello sguardo degli altri, quindi non solo guardare al mondo attraverso i popoli, che è già decisamente terrodosso per le nostre latitudini, quindi non ci sono i cittadini, tanto meno i leader che fanno ridere, oggi vengono presi molto sul serio, quindi non facciano molto ridere, ma i popoli, cioè le collettività, gli umani nella loro forma aggregata, e non occidentale, né occidentalistica, cioè guardare le cose con lo sguardo degli altri, la stragrande maggioranza dell'umanità non è né occidentale, tanto meno occidentalistica, spanne 7 miliardi di persone, poco più, poco meno, provare a guardare il mondo, non solo un monolite, ma con i tanti sguardi degli altri. Questo è l'approccio che vedremo anche oggi, in cui proveremo a parlare di Stati Uniti d'America, come dicevo, indagandoli nella struttura, la struttura che vediamo è, per usare un termine della politologia tremendo, che in mediamente non significa niente, vediamo un paese polarizzato, già solo dirlo fa impressione, per quanto è senza senso. Ci sono due partiti, in bocca al lupo, visto che i partiti degli Stati Uniti sono una finzione per eccellenza, però qualcuno dice che sembrano veri, noi repubblicani, democratici, c'è addirittura un candidato indipendente, che di cognome fa Kennedy, che si è candidato alla presidenza, ci sono due signori un po' avanti con gli anni, che conosciamo molto bene, uno presidente uscente, Joe Biden, l'altro presidente di rime merito, se stesse in campagna a guardare l'orizzonte, sarebbe merito senza dubbio, ma si è candidato nuovamente, ma sappiamo ovviamente, Donald Trump, quello che vediamo è questa roba qui, ma che significa? Visto così, niente, cioè molto divertente, io so che l'enfasi elettoralista è preponderante in quest'anno, l'avrete sentito più volte, il 2024, l'anno delle elezioni, si vota dall'isola di Pasqua, dico cosa a caso ovviamente, si vota dall'isola di Pasqua, probabilmente alla punta più estrema dell'Antartide, anche questa è una sciocchezza, ma questo, questi iperbole per dire che cosa, che ci è stato detto, che il 60%, ma come lo ricordo, talmente sciocca, che sinceramente ho fatico a ricordarlo, ma sembra il 60% degli esseri umani, così viene detto, voteranno, come se fosse una cosa vera, come se fosse una cosa decisiva, e non una sciocchezza, per l'appunto, non solo perché molte delle elezioni che vediamo in giro per il mondo, sono finte, non l'ultima, quella russa, ma ne potremmo citare molte, altre sono profondamente aleatorie, nella mente della divinità, le elezioni europee, roba da perdere la testa, oppure altre ancora, ci appaiono così, diciamo, tra il posticcio e l'invericondo, le elezioni in Pakistan, anziché quelle legislative in Iran, eccetera, altre si dipanano nel corso di molte settimane, come le elezioni in India, altre avvengono il primo martedì di novembre, beati loro, le elezioni presidenziali americane, che non sono elezioni dirette, ma sono elezioni indirette, col diaframma del collegio elettorale, cioè dei grandi elettori statunitensi, insomma, ma il punto vero qual è? I punti veri sono due, prima di adentrarci agli Stati Uniti in quanto tali, l'effasi elettoralista che riguarda l'America, che quest'anno ovviamente, come detto, già lo sapete, andrà a votare per la Casa Bianca, prevede, questa enfasi, due certezze che non possono darsi, cioè che non esistono, la prima che nelle elezioni, ammesso che siano vere, molte sono finte, ma facciamo finta che molte elezioni siano concretamente come le possiamo intendere da qui, e già questo chiuderebbe il discorso, ad essere onesti, dovremmo passare oltre, ora fingiamo che le elezioni siano tutte vere, questo prevede, anzitutto, che tutti noi, nel momento in cui andiamo a votare, sappiamo esattamente cosa vogliamo, è già molto complicato, da considerarlo, e ancora più importante, ci dovremmo domandare, con toro più o meno retorico, la celebrazione elettorale, cioè il voto, è un momento individuale per eccellenza, cioè si vota da soli, senza né mamma, né papà, né amici, né parenti, senza il capo tribù, senza, lo so, il cugino, sì, poi nelle orecchie ci possono mettere moltissime cose, lo sappiamo, vota per X, vota per Y, eccetera, però, è proprio un reato in Italia, qualora il voto non fosse segreto, di uno specifico individuo, o addirittura fosse promiscuo, cioè andassi a votare in 5, in 6, tutti dentro la stessa cabina elettorale, o se io sto votando, se mi affaccio nella cabina elettorale, a fianco, sto commettendo un reato, perché sto ovviamente influenzando, o potrei influenzare il voto, che è giustamente segreto, ma il punto qual è? La grande maggioranza dell'umanità non riconosce l'individuo come soggetto politico, in nessuna maniera, e dunque, anche quando e qualora possiede la celebrazione elettorale, cioè ha le elezioni, non sono come noi le possiamo immaginare da qui, perché il singolo voto non è contemplato, traduco, in Pakistan, dove si è votato poche settimane fa, l'individuo non vota per sé, vota per la nazione a cui si sente di appartenere, il Pakistan è composto da più nazioni, lo stesso nome Pakistan è un acronimo che unisce i principali popoli che compongono quella che è, nella partizione, l'India occidentale musulmana, che è composa di diverse nazioni, al suo interno, così come l'India, maggioranza hinduista, è composta di moltissime nazioni, ma anche in tanti altri contesti, la stragrande maggioranza, ripeto, dell'umanità, l'individuo non è un soggetto politico, anche quando si è votato in Afghanistan, non è che si votasse individualmente, cioè si votava per appartenenza ad una specifica tribù, ad una specifica etnia, e quindi dove conta, essenzialmente all'interno delle elezioni, esprimere appartenenza, appartenenza collettiva. Quando le elezioni, che sono inevitabilmente, meno male che esistono, quando sono vere, un'invenzione occidentale, sono state prese dagli altri, siamo all'inizio del Novecento, quando ancora l'Occidente era un marchio, proprio in senso del marketing, era un brand che funzionava, influenzava gli altri, gli atti le hanno prese, le élite che le hanno volute, o per prenderci un po' in giro, cioè per farsi vedere aperti alle novità, senza esserlo come è evidente, oppure, proprio perché allora conveniva inserire questo elemento nel loro processo politico, ma poi adattandolo alla società locale, che non è individuale. Quindi, se noi dovessimo basarci, tutto questo preambolo per dire che cosa è, se noi dovessimo basarci sulle elezioni, se basassero queste per capire il mondo campacavallo, sono o finte, o soprattutto si vota solo in senso collettivo, non in senso individuale, spesso non si vota nemmeno, e quindi, direi che il mondo è più complicato di così. E anche quando parliamo di Stati Uniti, dove certo l'individuo è più al centro della vicenda, certamente è più al centro che non nel Pakistan, non sono le elezioni presidenziali a darci il termometro della vicenda, bisogna scendere più nel profondo. Ed è quello che proveremo a fare adesso. Il primo elemento che vediamo, guardando agli Stati Uniti di oggi, è che gli americani sono depressi. Dovremmo dire fortemente depressi, perché non è soltanto una sensazione, no? A vederli. Sono molto piagnucolosi in questa fase, oppure molto arrabbiati, che non godono di buon umore, ma i dati stessi ci vengono incontro. Secondo dati ufficiali riportati anche negli ultimi mesi, il 29% degli statunitensi, che sono a spanne 330 milioni errotti, il 29% è stato diagnosticato clinicamente depresso almeno una volta nella vita. Non è proprio un dettaglio, cioè non è una depressione come dire sedicente a come sono depresso. No, è una questione seria, la depressione è una malattia molto seria ed è clinicamente stato accertato almeno una volta nel corso della loro vita per un terzo degli americani, poco meno, la depressione. Insomma, non è banale. È un dato che fa riflettere. Se a questo aggiungiamo il tasso di suicidi tra gli statunitensi è il più alto dell'Occidente, tre volte quello dell'Italia, due volte quello della Germania. Anche questo è un dato molto importante. Abbiamo davanti un Paese che non si sente tanto bene, avremmo detto qualche tempo fa. Il nostro compito, quello della geopolitica umana in questo caso, ma oggi noi qui, è capire perché. E c'è un'ulteriore complicazione che vedremo tra poco, cioè gli americani reagiscono alla medesima depressione in due modi molto diversi, in due modi principali diversi, che li divide, che questi due modi li dividono gli americani tra gli statunitensi delle coste e quelli dell'entroterra, che reagiscono al medesimo malessere, allo stesso sconforto, in maniera opposta, addirittura confliggente. Di non solo sono depressi, ma si ritrovano gli uni contro gli altri, perché la reazione al malessere è opposta dentro lo stesso paese del ciò che vedremo tra poco. Prima di tutto dobbiamo sapere come mai sono arrivati a questo stadio di depressione. Le ragioni che dobbiamo trovare sono diverse, ma quattro principali. Alcune, per il nostro modo di sentire, ci potranno sembrare lontane, altre forse più intellegibili, ma le vediamo comunque insieme. La prima ragione che ha provocato in questi anni, ormai già da una decina d'anni, questo malessere quasi inestirpabile degli Stati Uniti, è il fallimento, perlomeno mettiamola in questo modo, la profonda delusione nell'avere scoperto che cosa? Che il mondo non voleva e non vuole essere redento, non voleva e non vuole essere redento dagli americani. Di più, se la globalizzazione è sempre stata nella testa degli Stati Unitensi una forma di americanizzazione, l'aver scoperto che la grande maggioranza dell'umanità non vuole essere americanizzata, non vuole essere come gli americani, non lo vuole diventare, a noi può sembrare davvero una sciocchezza. Dice, beh, insomma, se a noi ci dicessero, guarda, amico mio, che il resto dell'umanità non vuole essere come gli italiani, non vuole vivere come voi, non sente di dover essere salvato, non sente di dover essere redento, di dover arrivare ad una redenzione, né tantomeno considera voi altri, cioè noi, lo strumento della sua salvezza. Noi che cosa diremmo? A parte diremmo è, cioè, la prima reazione sarebbe, me lo ripeti un attimo, perché ci sono dei passaggi, sto seguito, ma ci sono dei passaggi non chiarissimi. Noi? Noi redimere chi? Per un popolo messianico e millenarista, come quello americano, questa è una profonda delusione. Gli Stati Uniti si considerano da sempre, con analogia biblica, arcinota, la città sulla collina, cioè l'esempio dell'umanità, il faro dell'umanità. E quando negli anni 90 restano da soli sulla cima del mondo, perché implode il nemico storico del Novecento, almeno della seconda parte del Novecento, cioè i russi, si ritrovano da soli, si convincono davvero che la storia fosse finita e che il mondo non aspettasse altro che essere americanizzato. Era l'ideologia, lo è ancora in parte della globalizzazione. Aspettano solo noi, non vedono l'ora di diventare noi. Vogliono tutti guardare le nostre serie televisive, i nostri film, parlare inglese, scimmiottare la nostra società, i nostri costumi, anche le nostre idiosincrasie, i tic. Questi 30 anni hanno dimostrato di no, per niente. L'americanizzazione ha funzionato e tutto sommato prosegue in Europa, più occidentale che centro-orientale, ma diciamo nell'Europa allargata. Nel resto del pianeta proprio no. E per chi ci ha creduto davvero, potete immaginare, lo vedremo tra poco, tra le altre cause della depressione, che manutenere un ordine mondiale, come si dice in questi casi, è anche molto faticoso, necessita di una spinta millenarista, cioè dire lo facciamo per il bene degli altri. Gli americani ci credono, un po' ci fanno, un po' però ci credono davvero. scoprire che gli altri non solo non ti dicono grazie, ma respingono il tuo tentativo di procurare osmosi, cioè stammi vicino che diventi come me, è un elemento di delusione profonda, che li porta ad interrogarsi noi abbiamo faticato così tanto. Siamo sempre in guerra, siamo sempre in giro per il mondo, e gli altri ci respingono. Non è poco. Uno dei momenti principali, più scioccanti di questa fase storica arriva già all'inizio degli anni 2000. Per tutti gli anni 90, gli americani a questo ci hanno creduto davvero. Poi le torri gemelle danno loro un segnale, uno strattonamento forte, no? C'è una parte del mondo che ce l'ha con noi. A noi può sembrare anche questo molto ingenuo, ma non lo pensavano, non in questo modo, non con questa violenza. Se lo giustificano un po', dicendo, non che fosse sbagliato, però abbiamo a che fare con una organizzazione che rappresenta l'Al Qaeda, che rappresenta il male, che è malata, che non può rappresentare una fascia d'umanità. Almeno all'inizio te la giustificano così. Poi, nell'autunno del 2001, invadono l'Afghanistan, in marzo 2003, invadono l'Iraq, e già cominciano a capire in questa fase che una buona parte di mondo non li vuole. c'è questo passaggio televisivo che fece scalpore gli Stati Uniti proprio durante l'invasione dell'Iraq, nel marzo 2003, una parte dell'esercito americano che invade il paese, ovviamente è composta di logistica, il genio, diremmo, dal nostro esercito alcuni di questi ragazzi davvero molto giovani vengono fatti prigionieri e vengono esposti da prigionieri alla televisione irachena, la televisione di Baghdad, manda in onda irradiandoli gli interrogatori di questi ragazzi che hanno invaso il paese e c'è questo interrogatorio con questa sorta di tra il presentatore e l'aguzzino come potete immaginare che in una forma di para inglese chiede ma siete stupiti ah perché vi aspettavate di essere accolti con mazzi di fiori chiede letteralmente e poi viene domandato a questi soldati che cosa siete venuti a fare i soldati rispondono come fanno tutti i soldati in situazioni così quando tu chiedi ad un prigioniero che ha invaso un paese come hanno fatto gli americani in quel caso come hanno fatto i russi con l'Ucraina quando tu chiedi che siete venuti a fare ti risponderà sempre allo stesso modo non lo so ma mi hanno mandato qui un soldato semplice ma con un ufficiale non di altissimo grado risponderà sempre così che tra tutto vuol dire io rispetto gli ordini a me hanno detto di venire qui qui sono venuto tuttavia questa forma strumentale che anche i russi hanno pronunciato dopo l'invasione ucraina è stata strumentalizzata appunto in occidente dicendo non sapevano neanche dove andavano vedete sono stati spediti sono stati spediti in Ucraina neanche lo sapevano nessun soldato risponde mai diversamente da questo questo lo diciamo come asterisco quando viene fatto prigioniero e gli viene chiesto specialmente un sotto ufficiale ma perché sei venuto qui in casa nostra risponderà sempre allo stesso modo mi hanno mandato qui cioè sono un soldato mi è stato dato un ordine e sono arrivato qui non so perché letteralmente sovente i soldati non lo sanno non viene chiesto loro di comprendere il quadro geopolitico ma ciò che scioccò gli americani che videro queste immagini alla televisione in una primavera del 2003 fu proprio vedere il dileggio nei confronti dei loro soldati perché gli americani erano convinti che entrando in Iraq rovesciando un dittatore Saddam Hussein avrebbero trovato il conforto il sostegno della popolazione che non vedeva l'ora nei loro racconti di diventare americana di creare uno stato opposto all'autocrazia e che fosse un calco del modello statunitense non solo come ovvio la guardia repubblicana che era l'unica parte davvero per sapersi combattere dell'esercito iracheno si schierò contro l'invasione e questo era scontato ma poi scoprirono che la grande maggioranza della popolazione che era ed è sciita non voleva più la dittatura di Saddam Hussein perché rappresentava la minoranza contraria cioè erano sunniti e cristiani perché la dittatura di Saddam Hussein aveva una matrice di sostegno cristiana profonda cristiani locali specialmente i caldei il storico ministro degli esteri di Saddam Tarek Aziz era un cristiano caldeo quindi perito greco ma fedele di Roma ma la grande maggioranza degli iracheni non voleva più quel regime perché voleva farne uno identico ma su cioè afferente alla maggioranza che in Iraq è sciita non è sunnita e dunque filo persiano sebbene arabo e questo oggi è l'Iraq formalmente ha una costituzione una tripartizione dei poteri di memoria occidentalista ma è un satellite rissoso e complesso ma comunque un satellite dell'Iran e agli americani questo l'hanno trovato sconvolgente quasi fossero degli sparuti politologi che credono alla preminenza delle istituzioni alla roba comparata eccetera cose che nel mondo non esistono ovviamente l'hanno fatto gli americani invadendo l'Iraq dicevano ma se noi gli diamo gli irachini le istituzioni che abbiamo noi questi saranno fedeli a noi mica saranno fedeli all'Iran certo perché il sentimento va per istituzioni questi passaggi di quella che loro poi chiameranno in maniera incredibile la guerra al terrorismo li ha profondamente delusi e a questo si è aggiunto molto recentemente anche la guerra in Ucraina quando hanno scoperto eppure qui non ci voleva un genio che i governi che rappresentano presiedono fate voi la grande maggioranza dell'umanità a spanne tra i 4 e i 5 miliardi non hanno condannato per ben due volte tutte e due le volte in cui si è votato sul tema presso le Nazioni Unite non hanno condannato l'invasione russa dell'Ucraina il contrario quasi 5 miliardi di persone rappresentati da questi governi e non solo non l'hanno condannata ma non perché abbia ben a cuore l'invasione russa perché l'Ucraina è sostenuta dagli Stati Uniti e se è sostenuta dagli Stati Uniti non ci sta simpatica molto semplicemente questo è il ragionamento dei cinesi anziché degli indiani anziché dei pakistani eccetera eccetera per un popolo ripeto messianico e millenarista come gli statunitensi è una profonda delusione soprattutto rende quasi inutile lo sforzo cioè loro come i popoli imperiali non è che dicono noi dobbiamo dominare il mondo per il dominio in quanto tale sono esseri umani no? di solito anche una forma di coercizione come l'impero di dominio sugli altri ha di solito sempre deve avere una missione deve avere una forma di clac no? e la forma di clac è salviamo il mondo lascia fare anche con tono paternalistico decido io per tu non lo sai quello che vuoi io sì lo so anche per te te lo impongo ma questo prevede il crederci e che gli altri poi ti dicano grazie momento in cui non solo non ti dicono grazie ma ti accompagna dalla porta violentemente la delusione è profonda il secondo elemento aggiungiamo a questo è scaduto soprattutto viene sempre meno perlomeno quella giustificazione che gli statunitensi si sono sempre dati davanti a momenti di questo tipo che poi è di fatto la base della politologia occidentalista che si basa su un concetto implicito inesistente ovvero il mondo tende verso di noi cioè l'assunto quasi da stato di natura filosofico è se tutti fossero liberi tutti i popoli in occidente spesso non esistono più ci hanno detto che sono scomparsi i popoli sono l'elemento più importante del pianeta lottano insieme contro di noi ma va bene diciamo gli umani se fossero liberi vorrebbero tutti vivere come noi se i russi fosse concesso creerebbero una società identica alla nostra con le nostre istituzioni che si comporterebbe esattamente come noi questo farebbero anche gli iraniani ma neanche a dirtelo i cinesi cinesi c'era chi lo diceva proprio letteralmente vedrai gli abbiamo portato il commercio vorranno vivere come noi ma perché si si così fidati perché siamo anche a vederci siamo smaglianti siamo eccezionali gli altri anelano proprio vivere esattamente come noi ma tutti i pakistani gli etiopi gli italiani quando giocavano a fare l'impero e invasero e poi si presero nel 36 l'Etiopia gli etiopi sono sempre stati un impero vero per millenni lo sono ancora l'Etiopia è un impero vero gli etiopi hanno una profonda mentalità imperiale specialmente alcune etnie etiopi che noi non abbiamo mai avuto gli italiani che non sono direttori delle sciocchezze non sono i romani noi non abbiamo mai avuto una mentalità imperiale nessuna fase unitaria gli etiopi sì quando l'Italia giocava a fare l'impero in base con grande fatica peraltro l'Etiopia si è trovata davanti ad un impero reale sofisticatissimo e ci raccontavamo anche allora che loro volessero vivere come noi che erano nettamente più sofisticati di noi a livello imperiale noi se eravamo auto assegnati l'impero ma loro lo erano per davvero eppure questa roba abbiamo continuato a portarcela dietro cioè dire gli altri viverebbero come noi ma l'avversativa c'è un cattivo c'è sempre un cattivo come in tutte le favole che è il dittatore che impedisce ai russi ai pakistani ai cinesi batte la pesca non so chi altro ci possiamo mettere dentro di diventare come noi da Putin in giù questo giochino a cui nel nostro paese ancora molti credono che è una forma anche di razzismo gli americani convince sempre meno ci hanno sbattuto il grugno troppe volte regge meno che è una forma di teodicea per dirla nel filosofico cioè una giustificazione del male nel mondo abbiamo già parlato in un'occasione qui da voi lo scorso gennaio è un tema classico soprattutto di una filosofia di impostazione cristiana i classici latini e greci si chiedevano in maniera così diretta almeno lo facevano non collegandolo alla divinità perché ci sia il male nel mondo quando si interrogavano su questo non lo collegavano agli dèi perché gli dèi classici sia quelli greci che poi nel loro calco romano non erano buoni no gli dèi dell'età classica erano capricciosi erano antropomorfi erano tutti i nostri difetti erano dispettosi erano spesso e volentieri violenti eccetera erano anche osceni quindi non aveva senso chiedersi perché c'è il male nel mondo se gli dèi stanno qui e questa ha una definizione e quindi anche un quesito profondamente cristiano perché ne sappiamo qualcosa il dio della cristianità è un dio buono misericordioso questo è l'aggettivo anche in senso liturgico che si usa allora i pensatori cristiani da sempre si interrogano sul perché se il dio è buono nel mondo c'è la malvagità Leibniz che è stato un filosofo tedesco estremamente divertente se io come neologismo mi sono inventato a geopolitica umana e quindi tra le varie colpe anche questo lui si è inventato Teodicea che è un neologismo dal greco addirittura che vuol dire la giustizia di Dio letteralmente con il quale si interrogava ma perché se Dio è buono ed è chiaramente buono il Dio cristiano c'è il male nel mondo le risposte che i filosofi nel corso della storia si sono date sono disparate quasi tutte assolutorie nei confronti di Dio cioè non è colpa sua c'è un motivo superiore o perché la presenza del male nella nostra società serva a riconoscere il bene cioè la sua presenza dicotomica con il bene ci consente di apprezzare il bene altrimenti cadremmo nel tedio oppure in un nichilismo tuttavia il male ci desta dal nichilismo perché ci ricorda che esiste il meglio nel senso di fare del meglio oppure che so Kant la metteva in maniera ancora diversa diceva ma dimostratemi semplifico che questo mondo che vediamo è reale e poi discutiamo se ciò che vediamo è reale anche nella distinzione tra bene e male Marx la metteva in ambito di materialismo e quindi diceva no il male sono le classi dominanti che sfruttano gran parte dell'umanità e quindi il male è una colpa tutta umana come vedete la spiegazione è sempre negli uomini la colpa è sempre degli uomini essenzialmente viene sempre assolto Dio e sono diceva Marx le classi dominanti che gravano sulle classi sfruttate generano la malvagità fino ad arrivare agli americani che inseriscono in questo con una forma di teodicea il concetto della colpa del leader ed è un giochino questo che sbattendo il grugno contro il mondo reale ripeto a parte in Europa occidentale dove in gran parte anche a leggere le cose che vengono pubblicate ci si crede per davvero questa roba seria ci si fanno anche gli esami su questa roba qua fate un po' voi cioè sì la Russia è cattiva perché invade l'Ucraina ma non è colpa dei russi ti dicono nella loro ideologia gli americani perché i russi sono buoni è colpa di Putin cioè del leader in un'occasione che li travia che ne corrompe la bontà e li conduce al male con un tono tra il razzismo e il paternalistico per cui i russi sono o cretini completi noi ci ridiamo ma si parte proprio da questo assunto per cui non hanno capito poverini che c'è la censura e poi non capiscono non sanno dove si trovano non hanno capito che quella l'Ucraina l'hanno scambiata per Andorra eccetera oppure l'altro elemento altrettanto razzista non è che non hanno capito ma non sono liberi sono oppressi da un cattivo che è sempre quello che impedisce loro di essere esattamente come noi perché lo scontato è che vivrebbero come noi così gli iraniani e tutti quelli che abbiamo citato questa forma di teodicea cioè assegnare la colpa del mondo a un'oligarchia o a un leader che travia la bontà di un popolo tutte le volte gli Stati Uniti ce l'hanno con qualche soggetto geopolitico non dicono mai anzi dicono sempre il contrario mettono sempre le mani avanti noi non ce l'abbiamo con gli iraniani che sono vessati e sfruttati dal regime noi ce l'abbiamo con il regime dando prescontato che gli iraniani senza il regime attuale vivrebbero come noi che non è vero è una forma di razzismo tra l'ingenuo e il malizioso che oggi qui ancora funziona infatti a noi però non viene chiesto di capire il mondo quindi noi quando vediamo una rivolta in qualsiasi luogo del piene diciamo ecco li aiutiamoli vogliono vivere come noi per scoprire poi che non è mai vero quando gli iraniani tra il 78 e il 79 hanno fatto la rivolta se voi andate a leggere la pubblicistica di quei mesi il tono era lo stesso finalmente si liberano dello Shah che è cattivo perché loro invece lo Shah lo era davvero ma non è questo il punto così come lo è il regime attuale in Iran ma senza di loro viverebbero proprio come noi e poi questi fanno la rivoluzione tra la solidarietà dell'occidente e creano la teocrazia islamica da soli gliela imposta nessuno se la sono fatta da soli tutto tranne che vivere come noi possibilmente il contrario come nei film prendo quello che quando devono ordinare al ristorante quello che ha preso lui o lei fuori dall'occidente prendo l'esatto opposto se posso ordinare il giochino di attribuire la colpa del mondo ai leader alle oligarchie cattive oggi convince meno gli Stati Uniti perché ci hanno sbattuto la testa troppe volte e anche un popolo profondamente ideologico come gli americani non si consola più di questo noi ancora sì perché noi siamo andiamo al mondo dalle nostre camerette non ci spattiamo la testa tra un po' dovremmo farlo non so che cosa ci inventeremo però agli americani questo convince meno secondo elemento che ne genera la depressione che cos'è la manutenzione di un sistema globale in un pianeta che ha quasi 8 miliardi di persone questo non si era davvero mai visto chi ha avuto un sistema globale sono stati soltanto i britannici se globale per tale intendiamo a livello planisferico c'è tutto il mondo la prima globalizzazione geografica fu quella ottocentesca degli inglesi ma il mondo di allora era popolato da una popolazione che era meno di un terzo di quella attuale gli altri che manutennero un sistema all'epoca ovviamente non globale ma comunque universalistico erano i romani ma il mondo era composto da poche decine di milioni di persone il mondo che i romani avevano in testa in molti quadranti del pianeta delle lissoide terraqueo i romani non li scoprirono mai non li videro mai ma si può davvero tenere insieme un sistema globale con otto miliardi di persone dentro il quesito anche questo è nella mente della divinità di certo è faticosissimo e anche questo grava molto sulla psiche degli americani perché nel concreto che significa significa che hai troppi luoghi in cui guardare due occhi soltanto e ti viene il mal di testa questo stato di prolificità degli esseri umani ti conduce all'impazzimento non vogliono essere come te non ti seguono ti respingono e sono quasi otto miliardi è faticosissimo cioè non sai letteralmente dove guardare come un flusso infinito davanti ai tuoi occhi e tu non segui così con la testa come se fosse una partita di tennis in cui vanno a 7000 all'ora neanche a 700 all'ora ed è faticosissimo davvero ti conduce ad una forma di impazzimento pensare che un mondo così denso demograficamente possa rispondere ad un solo soggetto probabilmente è impossibile e gli americani anche per loro volontà per una forma grammaticale di aiuto ne hanno avuto poco dai loro clienti cioè da noi è sempre secondo i termini voluti dagli Stati Uniti quindi quando noi ci lanciamo in una campagna più o meno assurda voi venite con noi quindi Afghanistan Iraq chissà quale altra campagna poi il resto noi gli stessi americani ci hanno avviato al postoricismo ci hanno detto loro che la storia era finita questo è un classico l'impero dice alle sue province che la storia è finita che deve occuparsi solo di economia cioè della parte innocua dell'esistenza che non deve occuparsi di strategia che non deve occuparsi di revancismo che non deve immaginare la potenza benissimo malissimo questo decidetelo voi ci hanno condotto in un dolcissimo un po' storicismo in cui si sta figurarsi noi italiani però si sta meravigliosamente noi ci balocchiamo tra una serie televisiva e un aperitivo perché ci va alla grande che Dio ce la cresca peccato che non è vero là fuori il mondo esiste ancora la storia ci è sempre stata gli esseri umani non ci stanno vogliono cambiare lo status quo non sono soltanto cattivi vogliono stare nei libri di storia non accettano il dominio americano e se però gli americani cercano adesso aiuto da parte nostra e faticano a trovarlo perché noi siamo usciti dalla storia da un po' rientrarvi è doloroso non lo faremo ci faremo semplicemente trovare impreparati speriamo non succeda mai ma immaginare che nelle prossime due tre generazioni qui proprio qui non arrivi la guerra ma qui non quella che vediamo in televisione per poi discuterne mezz'ora durante l'aperitivo ma che qui non arrivi è improbabile entro tre generazioni noi siamo profondamente impreparati siamo il paese più anziano del mondo 46.7 anni di età media la guerra a questa età non la fa nessuno abbiamo creduto e continuiamo a credere davvero che la storia sia finita non lo studiamo il mondo non conosciamo i popoli ci hanno detto che non esistono ci hanno detto che esistono i cittadini che esistono le istituzioni ci hanno detto che esiste il diritto internazionale ci hanno detto che esistono i diritti umani abbiamo inventato noi gli altri considerano razzisti diventa difficile aprire improvvisamente gli occhi al mondo e quindi ci faremo trovare impreparati ma questo ci interesserà fra poco speriamo mai ma ne dubito per gli americani l'immediato vuol dire che a chi ti rivolgi cioè a chi ti aiuta ripetete che adesso bestemmiano e dicono ah voi dovete fare la vostra parte dovete investire nel militare dovete seguirci chi vi ha detto che dovete stare soltanto a casa a guardare fuori dalla finestra chi ve l'ha detto questo voi risposta cioè tutto voi chi ce l'ha detto sempre voi questo genera un ulteriore malessere gli Stati Uniti hanno un mondo troppo grande troppo denso e non sanno a chi appoggiarsi terzo elemento della loro depressione che è il penultimo è comunque collegato da un corollario di questa forma di manutenzione sbilenca l'avere la guerra in testa da troppo tempo questo grava se noi siamo tra l'altro dall'altra parte siamo nel mondo retto dai commerci dall'economia quindi le favole loro no loro sono dentro il mondo da sempre e stare dentro il mondo vuol dire fare profondamente perennemente la guerra oggi mentre io sto parlando gli Stati Uniti sono tra guerre dichiarate non almeno dentro sei cinque conflitti ma ciò che grava di più nella testa nella psicologia della popolazione è l'idea di doverla fare di nuovo domani che non riguarda soltanto chi è al fronte o chi vive nei castra statunitensi no tutti gli imperi costruiscono grandi accampamenti militari cioè enormi base militare per il mondo gli Stati Uniti ce l'hanno sparsi ovunque tra la Corea del Sud Okinawa la Germania nell'Indo Pacifico non è solo questo non è solo di chi sta al fronte materialmente in un paese che ha più di 330 milioni di abitanti quelle centinaia di migliaia anche il milione il milione e mezzo due milioni di militari dipende dai momenti che fanno quello essenzialmente di mestiere può arrivare anche a tre milioni sono una goccia nel mare ma non è soltanto questo e noi lo sappiamo bene fare la guerra riguarda l'intera comunità non solo chi spara al fronte a livello psicologico riguarda tutti tutte le sere letteralmente gli americani vanno a letto tutti pensando che prima o poi saranno svegliati durante il sonno perché il mondo non vive sul loro fuso orario come non vive sul fuso orario di nessuno saranno svegliati da chissà quale nuova guerra alla quale dovranno partecipare in maniera anche massiccia molto più da adesso esempio possono andare a letto e scoprire che nel frattempo la Cina ha puntato in vaso Taiwan per noi ripeto lì parteciperemo anche noi infatti ci sarà da ridere se non fosse oltre drammatico ma per loro potrebbero andare a fare la terza guerra mondiale per noi ripeto diritto nazionale il cittadino le cittadinanze globali prima ci hanno detto che siamo cittadini del mondo poi che stiamo a direttura cittadini europei tra pochi chissà qual'altra cittadinanza si metteranno quella del sud-est asiatico alla quale noi vorremmo partecipare che noi manchiamo a una cittadinanza gli italiani partecipano a tutte le cittadinanze quella del sud-est asiatico se ce la danno volentieri quella di Panama non lo so abbiamo creduto a tutte le cittadinanze da quella globale a quella europea quindi non possiamo quella scandinava chissà se ci volessero mai scandinavi noi saremmo anche cittadini scandinavi ci metteremo una bella parrucca bionda e via non avremmo problemi da quel punto di vista gli americani no stanno nel mondo reale e questo è estremamente faticoso per noi è uno scherzo per loro è il motivo per cui quando vanno a letto non riescono a prendere sonno dice ma come è possibile un americano tutte le sere pensa a questo il suo inconscio sì quando è tornato a casa la sera è passato davanti certamente ad una casa come la sua e fuori ha visto un fiocco giallo l'ha visto per forza in tutte le città d'America specialmente nell'America profonda c'è sempre il fiocco giallo questo yellow ribbon che per gli americani indica che quella famiglia è un militare da qualche parte nel mondo e lo ha visto tornando a casa e questo è un elemento psicologico nella testa degli Stati Uniti quarto ed ultimo elemento l'aspetto antieconomico della manutenzione dell'impero è un dettame tipico della geopolitica umana di cui peraltro anche qui abbiamo parlato la manutenzione dell'impero è antieconomica inevitabilmente e questo vuol dire comparare dagli altri anziché esportare importare massicciamente distruggere la propria manifattura non vivere di economia ma l'esatto contrario favorire più l'economia degli altri che la propria sì ogni tanto gli americani scalciano ma questo fanno è l'unico modo per avere una valuta di riserva globale poi devi manutenere le rotte di trasporto e quelle che si chiamano in cacofonia le supply chains che insomma in tono diverso vorrei dirlo così che sono teoricamente nella disponibilità degli Stati Uniti che adesso faticano di più a tenerli vediamo anche nello stetto di Babbe Mandeb quello che divide la penisola arabica dal corno d'Africa con l'intervento non solo ma soprattutto degli uti iemeniti filo-iraniani tenere un mondo in maniera anti-economica è gravoso cioè tu non cerchi mai il profitto l'utilitarismo devi sempre cercare la dipendenza devi sempre provocare dipendenza negli altri quindi devi agire in maniera anti-economica detto in modo più semplice auto-lesionistica sul piano del profitto e questo è complesso peraltro va ricordato che a livello storico il malessere è sindrome tipicamente imperiale tutti gli imperi arrivano in una fase in cui sono depressi i romani lo furono dopo aver sconfitto Cartagine quindi quando divennero soli sulla cima del mondo almeno del mondo che conoscevano e riconoscevano cioè il Mediterraneo rimasti soli senza il loro antagonista si fanno prendere dalla depressione dicono e adesso si lamentano e dicono famosissimo orazione di Tiberio Gracco i romani si dichiarano padroni del mondo non hanno neanche una zola di terra cioè vivono sempre in funzione dell'impero devono favorire i commerci degli altri quelli dei clientes devono fare la guerra in continuazione stanno sempre su chi va là non sparavano perché non c'era la polvere da sparo ma partivano comunque per fare la guerra eccetera questo poi sarà superato forse non guariranno mai del tutto i romani ma supereranno questo momento così come i mongoli dell'orda d'oro che nel quindicesimo secolo quando il gran ducato di Mosca l'impero mongolo è stato l'impero terrestre più esteso del pianeta quando il gran ducato di Mosca poi si divide in canati cioè diciamo come se si dividesse in autoprovincie che fanno la scissione una di queste che era il canato di Crimea vedrà l'ascesa nel quindicesimo secolo del gran ducato di Mosca che è l'embrione uno dei tanti embrioni dell'impero russo si lascia un po' morire per stanchezza l'impero ciò che risituava in quel caso dell'impero mongolo i russi la metà del 400 smettono di pagare i tributi erano stato tributario dei mongoli dicono noi non ve lo paghiamo più e quelli non hanno la forza di reagire si faranno una guerricciola sul fiume Ugra che è un affluente del Volga stavano sul Volga quelli che poi diventranno i Tatari che ancora ci stanno in Crimea che sono turcofoni sono turchi diremmo oggi ma non ce la fanno aspetteranno gli aiuti dei polacchi che non arriveranno mai si lasceranno andare per inedia quasi non letteralmente davanti all'ascesa dei russi così come gli inglesi sono stati attraversati da profondissima depressione la seconda metà del 900 specie dopo Suez non capirono esattamente la portata della seconda guerra mondiale gli inglesi perché comunque si raccontavano e si raccontano ancora di averla vinta dopo averla strapersa però formalmente poi arrivarono in Germania si presero anche una parte del paese poi la dovessero lasciare per eccessiva stanchezza come fecero anche i francesi però formalmente si mettono tra le potenze vincitrici hanno il seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite eccetera eccetera sì ma sul piano tattico l'hanno anche vinta sul piano strategico l'hanno strapersa la seconda guerra mondiale solo gli americani gli hanno pignorato tutti gli avamposti marittimi quindi arrivederci e grazie adesso facciamo noi e poi a Suez quando provano ad occupare il canale che l'Egitto voleva nazionalizzare insieme ai francesi insieme agli israeliani vengono umiliati dagli americani e dai russi che all'epoca si facevano chiamare sovietici e lì si rendono conto 56 che davvero questa volta è finita è finita per davvero attraverso una fase di depressione almeno fino agli anni 80 gli inglesi che qui non utilizzo come metonimia dell'impero gli inglesi sono i titolari poi sono dei furbacchioni spesso gli imperi i nuclei centrali di un impero si cambiano il demotico per fare quelli che abbracciano gli altri quindi gli inglesi a un certo punto più o meno tre secoli fa hanno cominciato a farsi chiamare britannici sempre gli inglesi sono però fingevano che gli scozzesi i gallesi fossero alla pari con loro così come i russi a tutto punto si fanno chiamare sovietici niente di strano ma gli inglesi dicevo diventano depressi in quel momento lì si lasciano andare c'è un tutta una fase per gli anni 70 in cui poi cominciano a seguire gli americani stanno fuori di testa gli americani distruggono la loro manifattura negli anni 70 negli anni 80 perché devono fare il compatore d'ultima istanza gli inglesi che non sono più impero di niente li seguono distruggono anche la loro tra lo sbigottimento degli americani diciamo ma perché dice ma lascia fare noi vi imitiamo che funziona questo genera ulteriore sconforto poi si daranno alla finanza essenzialmente però questo è un altro discorso però questo per dire che il malessere degli imperi è tipico il punto è che gli americani oggi reagiscono a questo malessere di cui abbiamo visto le radici in maniera opposta che è quello che poi ci balza agli occhi non solo sono depressi ma non reagiscono allo stesso modo se la vedono gli uni contro gli altri chi sono? sono essenzialmente le coste quindi costa atlantica e costa pacifica New York e California semplificando che hanno una reazione a questo malessere e l'entroterra che ne ha un'altra opposta quale? le coste davanti alla presa d'atto di tutto quello che abbiamo detto fino adesso reagiscono così e dicono stanno scivolando nel posturicismo dicono ci siamo sbagliati il mondo non vuole essere come noi colpa nostra abbiamo sbagliato siamo stati noi che in modo velleitario un po' razzista con un evidente complesso di superiorità che poi come tutti i complessi di superiorità è anche un complesso di inferiorità pensavamo che gli altri volessero essere noi non è così scusate parliamone e quindi hanno iniziato a sviluppare scendendo del posturicismo una forma di relativismo culturale che è quasi indichilistica e che vediamo nella cultura della cancellazione cosiddetta cancel culture cultura woke recuperata in questi anni che essenzialmente che cosa dicono che cosa vuol dire vuol dire ci dobbiamo vergognare di ciò che siamo stati abbiamo sbagliato volevamo dominare il mondo lo abbiamo fatto non era giusto prendiamoci le nostre responsabilità se il mondo non vuole essere come noi è colpa nostra lo dicono e lo pensano davvero noi lo avevamo imposto agli altri e ci hanno detto di no quindi che facciamo abbattiamo le statue di coloro che sono stati o razzisti o cattivi tutti gli esseri umani praticamente va bene o condottieri a cavallo in piedi seduti sul monumento che guardano l'orizzonte con il fucile in braccio quello che capita lo buttiamo giù cancelliamo lo studio della storia un po' come l'Italia chi ce la studiamo a fare la storia è finita abbiamo sbagliato serve più non ci deve interessare più la storia tutti i popoli che stanno nel mondo sono ossessionati dalla storia è proprio il metro primario per vedere che collocazioni immaginano per sé perché la storia in senso pedagogico che è una forma di propaganda funziona in questo modo tutti i popoli che immaginano di dover essere importanti la studiano la masticano un po' se la inventano eccetera dicendosi come tutti anche noi non esiste un popolo che non si inventa la storia già non la studiamo più però teoricamente ce la inventeremmo in che modo cioè dicono se noi siamo stati grandi ieri questo serve la storia vuol dire che dobbiamo esserlo anche domani quindi la storia con un uso pedagogico propagandistico è tipica degli imperi siamo stati grandi 7000 anni fa nella storia di un paese profondamente storico è come se fosse ieri ci si racconta di eventi che noi se noi pensiamo all'unità d'Italia quindi non arriviamo neanche a 200 anni fa ripressione della nostra testa che sia 7000 anni fa 10.000 anni fa cioè un elemento lontanissimo dovete immaginare che in un impero cosciente di sé un fatto successo 500 anni fa si è ritenuto fondamentale argomento di dialogo quotidiano tra le persone vedono un evento nel mondo che ha commesso un popolo x o y dicono ah questi insulti sono quelli che vennero qui 700 anni fa e ci hanno fatto questo questo e questo ma davvero le coste degli statuniti dicono non fa più per noi la storia deve essere rivista totalmente in una forma apologetica possibilmente non studiarla più ma se proprio dobbiamo con una forma di giustificazione profondamente relativistica che tra l'altro coincide con il rovesciamento della storiografia almeno del senso deontologico della storiografia di applicare le nostre categorie contemporanee a persone che hanno vissuto 500 anni fa 50 anni fa 30 anni fa 100 anni fa che non ha nessun tipo di senso è chiaro che se io dovessi giudicare mio povero nonno con le mie categorie di oggi dovrei condannarlo quasi senza appello ma non vuol dire che sia giusto non vuol dire neanche che sia giusto assolverlo semplicemente non sta a me e i suoi contemporanei dovevano giudicarlo molto più semplicemente il discorso che fanno le cose degli Stati Uniti è esattamente questo che ovviamente sportano anche qui da noi io glielo direi non ce n'è bisogno troppa solerzia voglio dire noi abbiamo già abbandonato e distrutto la storia da mo serve che importiamo il vostro modo relativistico di cancellazione della storia già fatto vi preoccupate dormite dormite tranquillamente e poi che cosa dicono le coste dicono concentriamoci sulla qualità della vita abbandoniamo l'impero ci siamo sbagliati non fa più per noi campiamo di economia come se fossero un peso normale come fanno le province dell'impero qualità della vita iniziano appena viene spunto il passato dalla dialettica quando si va nel postoricismo si comincia a parlare di futuro che è la categoria di ogni fallimento evidentemente chi non è esattamente orgoglioso del presente parla di futuro dice però un giorno però arriveremo però faremo e così fanno le coste negli Stati Uniti e nel futuro cominciano a mettere una forma di salvezza dell'umanità per cui dicono i posteri ci ringrazieranno i nostri nipoti perché gli abbiamo tolto l'impero quindi questo fardello che c'erano sopra la testa lo vorremmo distruggere non ci riusciranno faccio da spoiler come dicono quelli bravi che gli imperi non si autodistruggono vengono distrutti dagli altri ma questo è un altro discorso ma comunque loro dicono eliminiamolo concentriamoci sulla qualità della vita ad esempio le coste degli Stati Uniti sembrano un'Italia cioè propongono norme legate all'economia concentrarsi su quella sull'ambiente di ambiente come questione vitale si occupano soltanto i popoli postorici non è che i cinesi nel profondo o gli americani dell'entroterra pensano all'ambiente vi dico gli indiani che peraltro le conseguenze serie del suo riscaldamento globale ce l'hanno addosso gli indiani le catastrofi che questo produce ma non fa per loro gli americani delle coste sì poi arrivano al parossismo non studiare la storia sempre produce suggestione non conoscere la storia rende tutti noi suggestionabili non sapendo ciò che è stato ciò che viviamo ci pare sempre inedito che ne so io non so niente di quello che c'è stato prima quindi ciò che vedo non era mai successo probabilmente tutto ciò che vediamo è quasi sempre tutto già successo l'uomo adesso di nuovo nei contesti in cui la storia non si studia più annuncia la fine del mondo rendendosi ridicolo l'uomo annuncia la fine del mondo da sempre per le ragioni più svariate adesso il mondo sta per finire per il risultato di scaldamento globale che è ridicolo ma basta studiare la storia non ci vuole tanto dai maia in poi tutti hanno annunciato la fine del mondo poi ritrovarsi ridicolo il giorno dopo vedendo che il sole sorgeva dice oddio ma hanno detto che non sarebbe sorto più non significa che la questione ambientale non sia una questione seria lo è ma il mondo non sta per finire non è che tutto ciò che è serio è apocalittico addirittura diventa escatologico diventa tale quando il passato non lo si conosce più quindi diventa tutto possibile l'assenza di passato è tutto possibile non ho mai visto niente c'è mai stato niente prima di me e puntualmente dopo aver espunto il passato ci si concentra sul futuro che non esiste perché ciò che non esiste è più facile da maneggiare o che non è mai esistito questa è la reazione che hanno le coste degli Stati Uniti d'America ma l'entroterra ha una reazione opposta che complica ulteriormente la vicenda e su questa reazione concludo e poi provo ad abbozzare ciò che potrà succedere visto che come detto ciò che gli americani poi vivono e pensano cade sulle nostre esistenze tutti i giorni gli americani dell'entroterra chi sono anzitutto si sta formando una specie di mostro a due teste mettendo insieme nemici storici il Midwest che è la parte più storicamente più importante del paese cioè quella dei grandi laghi che non è medio occidente geograficamente medio oriente ma questo non ci interessa in questa occasione che si sta allacciando al sud degli Stati Uniti che da sempre è suo nemico o almeno lo era il sud degli Stati Uniti è la parte del paese lasciata isolata è quella che fece la secessione alla metà più o meno dell'ottocento poco più è quella che fece la secessione ed è quella che esattamente come è successo ad esempio alla Baviera in Germania dopo la seconda guerra mondiale Baviera accusata in Germania di aver creato il nazismo accusata dagli americani poi da tedeschi ma solo dopo è stata espunta culturalmente la Baviera vive a sé in Germania poi siccome il destino oddio fate voi è beffardo e si diverte la Baviera anche lo Stato dovremmo dire è la nazione più produttiva più ricca e più capace della Germania così per complicare le cose ai tedeschi il sud degli Stati Uniti no non è per niente né la regione più ricca né quella più produttiva né quella più smagliante del paese ma dalla fine dell'ottocento fa vita a sé è stata sconfitta nella guerra civile che gli americani chiamano di secessione e che è stata lasciata se anche soprattutto per volontà non solo della costa atlantica ma anche del Midwest oggi l'entroterra del paese si trova vicino Midwest e sud in che modo reagiscono alla depressione dicendo benissimo anzi malissimo il mondo non vuole essere come noi è colpa loro è colpa loro è colpa del mondo non è colpa nostra non ci siamo sbagliati come dicono i californiani o i new yorkesi cioè quelli che vedete nelle serie televisive per capirci questi dicono no sono loro che non capiscono sono scemi oppure ci hanno preso in giro ci hanno fatto credere di voler essere come noi e ci pugnalavano alle spalle o ancora dicono è colpa delle coste statunitense che ci hanno raccontato con i loro media con i loro film con le loro università che il mondo volesse essere come noi e non era vero e noi ci abbiamo creduto e non è colpa nostra perché noi siamo puri siamo stati forse ingenui se peccamo fu per troppo amore verso l'umanità che volevamo redimere renderla nostra somiglianza e non dobbiamo chiedere scusa a nessuno sono gli altri evidentemente sia i nemici interni che quelli esterni che gli alleati e ci devono chiedere scusa specialmente gli alleati ce l'hanno con noi alleati noi ci chiamiamo alleati perché mamma e papà ci hanno detto che siamo molto importanti questo fa molto ridere gli americani però insomma provincia ci fa impressione diciamo i satelliti ce l'hanno con noi perché noi che cosa abbiamo fatto viviamo a sbafo avete sentito immagino queste cose non paghiamo ci facciamo proteggere da loro non diamo niente in cambio li mandiamo avanti e noi rimaniamo indietro viviamo molto meglio di loro specialmente dell'america profonda non c'è dubbio pensiamo che la storia sia finita viviamo nella bambaggia ci occupiamo di green lo uso non a caso l'espressione ridicola in inglese pensiamo davvero che il mondo sia retto dal commercio mentre questi crepano e ce l'hanno anche profondamente con noi una reazione come vedete opposta a quella della costa dicono non dobbiamo cancellare niente dalla nostra storia dobbiamo essere orgogliosi perché non abbiamo sbagliato noi è il mondo che non ci merita e quindi molti stati del sud oggi approvano leggi per evitare che siano abbattute le statue e nei loro programmi di storia statali per esempio c'è una recentissima legge approvata dal congresso texano che dice che non si può introdurre l'attualità nei libri di testo di storia cioè devono rimanere esattamente così com'è perché non devono essere contaminati dalle scuse che vogliono produrre verso il mondo le coste l'esatto opposto geometrico della reazione del resto del paese e poi che altro dicono non dicono dobbiamo rinunciare all'impero tornarcene a casa dicono gli atti devono pagare devono ringraziare per stare con noi devono produrre ex voto perché ci hanno incontrato nella vita e adesso devono pagare loro noi noi e anche i loro nemici dobbiamo pagarli per commerciare con loro per farsi proteggere da loro per beneficiare del loro prodotto culturale e come vedete siamo davanti ad un approccio profondamente diverso quando il 6 gennaio 2021 quest'America qui entra nel Parlamento americano e lo profana perché lo fa? visto a livello sovrastrutturale perché tifavano Trump hanno visto in Trump che peraltro un new yorkese che quindi con loro non c'entrerebbe nulla se non fosse che d'origine tedesca e ha saputo incarnarne in maniera estremamente pelosa e strumentale le istanze ma ciò che dicevano che cos'è? se le coste li hanno traditi raccontando loro un mondo che non c'è e questo è vero ma non è che li hanno traditi se le sono dette da soli queste cose ci hanno creduto davvero anche le coste allora raccontavo davvero un mondo che non c'era che volesse essere americano se loro non si fidano più di loro e questo ha generato tutte le teorie del complotto che proliferano negli Stati Uniti che non sono solo matti dicono ma se tu ci hai mentito su questo ci hai mentito su tutto no? che era poi quello che diceva il Marchese del Grillo ricorderete la ragioniere no? diceva se tu mi menti su questo mi menti su tutto io licenzio te tuo padre e tuo nonno diceva il carbonaro quando si figgeva il Marchese del Grillo ecco più o meno gli americani di dentro fanno lo stesso tu mi hai mentito sul mondo allora mi menti pure sul vaccino e mi menti sul fatto che non c'è un'oligarchia che come gli ignomi di Zurigo ci domina no? è vero dici la verità e prendono e assaltano dopo averle perse le elezioni si raccontano che gli erano state rubate perché niente ha più valore come nessuno crede all'altro ed entrano nel Parlamento peraltro compiendo un gesto incredibile per la prima volta nelle immagini che si vedono degli assalitori si chiama congresso il Parlamento americano il luogo è un luogo dalla toponomastica imperiale si chiama Campidoglio no? per replicare quello di Roma ci sono anche i fasci elittori no? dietro lo scranno dello speaker loro lo chiamano cioè il presidente diremmo noi della Camera lo speaker della Camera dei rappresentanti quando entrano si vedono per la prima volta le bandiere confederate cioè le bandiere degli stati del sud che fecero la secessione che mai entrarono avendola persa la guerra evidentemente nel Parlamento unionista ma poi si scopre che molti alcuni di quelli che sventolavano quelle bandiere non erano per niente del sud non proverivano dagli stati meridionali erano del Midwest che invece hanno combattuto la secessione dimostrazione dell'allaccio tra due anime profonde degli statuniti che una volta si guardavano in Cagnesco ma che adesso hanno un nemico comune che sono le coste quindi come vedete due reazioni che poi noi a livello massimo sulla tutela le vediamo una parte la incarna Biden quella delle coste scusate abbiamo sbagliato noi non vogliamo non possiamo non dobbiamo direbbe il Papa lo disse quando arrivarono i francesi napoleonici al Quirinale e invece il dentro dell'America che dice no gli altri ci devono delle scuse e adesso non domani se non noi come dice Trump non vi difendiamo più anzi chiediamo alla Russia di attaccarvi tra l'altro un bocca al lupo ma non vi difendiamo più se non pagate se non ci ringraziate se non ci chiedete scusa altro che rovesciare noi le statue questa è l'America che abbiamo davanti una forma di depressione schizofrenica che perlomeno si divide in due anime come se fossero due enormi rivoli frutto dello stesso malessere ma con ricette istintuali confliggenti che cosa può succedere cosa può andare storto si direbbe in tono retorico già molto lo è andato ma esattamente questo malessere degli Stati Uniti sta provocando l'elemento d'entropia che vediamo nel mondo il mondo ha preso questa velocità non lo riconosciamo più perché la storia non era finita però va bene a noi ci hanno detto il contrario qui adesso vediamo che la Russia invade l'Ucraina ogni giorno sembra che stia per scoppiare una nuova crisi e Hamas al 7 ottobre 2023 attacca Israele lo fa a nome dell'Iran perché vede in Israele non solo come è ovvio ai noi lo sappiamo il grande nemico dei palestinesi perché vede in Israele anche una miniatura dell'Occidente alleato degli Stati Uniti stanotte in modo molto scenografico a dire il vero ma comunque per l'anima volta l'Iran lancia un attacco dal suo territorio verso quello israeliano e poi non c'è un giorno senza che i cinesi non ci ricordino che Taiwan era loro che se la devono riprendere che lo devono fare più prima che dopo e che lo faranno con le buone o con le cattive tutto questo da che cosa nasce dal fatto che gli antagonisti degli americani che non se la passano bene per niente se la passano male i russi i cinesi gli iraniani mettiamoci anche i turchi sebbene fondamentalmente e almeno formalmente siano membri della Nato hanno molta meno paura della reazione statunitense a queste loro intemerate perché gli americani sono così depressi perché sono così depressi e ce ne hanno gli uni contro gli altri e quindi gli altri ovviamente se ne avvantaggiano è come una forma di sede vacante che totalmente vacante non è ma certo è meno presente di un tempo quindi già questa forma di depressione così opposta al suo interno genera il mondo in cui viviamo stabilire cosa sarà degli Stati Uniti nei prossimi anni è davvero complicatissimo di solito queste forme di malessere si reagisce quando all'orizzonte capita un nemico potente che fa coagulare la popolazione intorno alla bandiera cioè dire qui o reagiamo più o meno insieme insieme del tutto non ci si riesce mai più o meno insieme oppure sprofondiamo ma come detto la storia tuttavia ha esempi anche contrari no gli esempi i romani riuscirono a reagire forse la maggiore anzi senza dubbio la maggiore sfida a se stessi e al loro modo di pensare l'impero l'avrebbero avuta tempo dopo quando la parte orientale dell'impero che i romani non riuscirono mai davvero ad assimilare cioè quella che si esprimeva nella coine greca provò all'epoca immaginate a livello sovrastrutturale quello che vediamo adesso la parte inutile però quella su cui si fanno i romanzi quella più divertente c'era Antonio che come dicevano i suoi detrattori si era fatto crescere la barba era un gesto davvero eversivo cioè l'ha diventato asiatico quindi la parte orientale dell'impero che parlava essenzialmente greco il greco della coine voleva portare verso sé l'impero romano vinse la parte latina perché questo fu lo scontro che era guidata da un signore che diventara formalmente il primo imperatore di Roma sebbene Roma un impero sempre formalmente non lo divenne mai che era ottaviano poi augusto e ad azio almeno il malessere che aveva molto tempo prima attraversato Roma sembrava estinto può succedere questo anche agli americani ma può succedere anche come è capitato nella storia lo dicevamo poco fa anzi poco fa ormai un'oretta fa che si possono anche lasciare andare possono non trovare la forza per reagire io personalmente giudico questo uno scenario più improbabile ma certo non è uno scenario che possiamo escludere in assoluto chiudo ricordando che una delle massime più famose che gli americani frequentano è la massima di un di uno scrittore statunitense molto amato dagli americani molto meno noto all'estero sebbene sia noto che per dire all'italiana dovremmo dire Ralph Waldo Emerson i americani chiamano Ralph Waldo Emerson che diceva che gli americani non possono tornare a casa questo è un famosissimo aforisma il riferimento un po' come Borges nei confronti delle Argentine dire siamo un po' figlio di immigrati che oggi si chiamano migranti con un participo presente sempre perché la storia è finita ma sempre immigrati sono i migranti non esistono sono mai esistiti non esisteranno mai gli immigrati sì esisteranno sono sempre esistiti diceva quindi noi a casa non possiamo tornare perché casa è dall'altra parte dell'oceano e noi siamo venuti qui per rimanere il grande vantaggio strategico degli Stati Uniti d'America a livello geopolitico è sempre stato l'esatto contrario cioè il poter tornare a casa il fatto di vivere nel Nord America di vivere in un continente esterno all'Eurasia dove da sempre in Eurasia si gioca il destino dell'umanità in modo molto violento gli americani hanno sempre avuto questo privilegio loro sono mentalmente un'isola sebbene non lo siano genograficamente come è ovvio ma si sono sempre percepiti come tali perché hanno i due oceani confinano con i pesci a Nord c'è il Canada che è uno stato fittizio e a Sud c'è il Messico che sarà un grande nemico degli Stati Uniti e lo è già parzialmente ma non ancora per metterli in ginocchio tuttavia questo vantaggio strategico oggi li costringe a stare nel mondo cioè non riescono non si può abbandonare un impero di questa fattezza di questa estensione il rischio è di caderci dentro cioè di pagare a carissimo prezzo la depressione che questo impero ha provocato dentro di loro e di non saper reagire ripeto è a mio avviso lo scenario meno probabile trovo più probabile che gli Stati Uniti trovino il modo di reagire davanti ad un nemico fondamentale e impegnativo come può essere quello che chissà che avranno all'orizzonte ma sempre per dirla in inglese è un indovinello istruito cioè è un'ipotesi certo è e chiudo su questo che ciò che saranno o non saranno e già adesso in maniera così dolorosa non riescono ad essere a un impatto evidentissimo sulle nostre vite è la causa stessa della confusione nel mondo che vediamo e questa resterà questa in ogni caso resterà non riusciranno non nel tempo che abbiamo davanti gli americani a riportare l'ordine in quanto tale come ci avevano abituati a saperlo tenere tra gli anni 90 e i primi anni 2000 questo non succederà dobbiamo calcolare che anche questo è già stato visto già è successo immagino che anche per molti qui questo sia un incubo cioè prima o poi tutto rientrerà torneremo a farci fare l'amore dalle infermiere sarà un momento come quello che abbiamo conosciuto e se facessimo un sondaggio penso che molti anche qui ma anche comprensibilmente un po' come forma di scaramanzia lo possano esprimere ma se noi avessimo interrogato che sono i siriaci del secondo secolo dopo Cristo e avessimo chiesto loro da che cosa è retto il mondo ci avrebbero detto dai commerci nel Mediterraneo quanto durerà l'impero romano ci avrebbero risposto per sempre ma senza neanche batter ciglio così se noi avessimo chiesto agli iranici dell'Asia centrale quelli che sono gli antenati dei taggichi attuali o dei pashtun di oggi gli avessimo chiesto gli altaici che avete sopra la testa che sono i turchi i turco-mongoli difficilissimo dividerli all'origine dai gokturk che erano l'embrione iniziale dei turcofoni che si mossero dall'Asia estrema poi arrivarono in l'Asia centrale crearono l'impero mongolo e ce l'avevano sopra la testa e siamo chiesti che cos'è che regola il mondo beh il passaggio nell'Asia centrale l'antichissima via della seta che noi ancora viviamo eccetera eccetera bene quanto durerà questa forma l'impero mongolo è purtroppo per sempre e così noi avremmo risposto negli anni 90 ma ti ripeto secondo me anche adesso anche qui dentro che cosa regge il mondo l'economia bocca al lupo quanto durerà la globalizzazione sulla globalizzazione c'è molto più sconforto ma se ce lo fossimo chiesti 15 anni fa 15 anni fa quanto durerà il mondo post-storico voluto dagli americani ma è così signore politologo molto sveglio americano di origini giapponesi prendendo l'espressione da Hegel raccontando la fine della storia si è comprato più di una casa al mare voglio dire ha venduto beato lui talmente tante copie di un librino anche divertente non scritto benissimo ma comunque anche divertente raccontando che la storia era finita e che fosse questo l'ultimo uomo la storia non è finita non solo viene a bussarci alle porte tra un po' le prenderà testate noi ci dovremmo trovare impreparati ma molto di quello che sarà di noi dipenderà da come reagiranno gli americani senza nasconderci dietro un dito quindi vale la pena secondo me studiare l'aspetto profondo degli Stati Uniti d'America anziché quello sovrastrutturale che è estemporaneo infatti quindi chiudo in maniera ignobile il prossimo numero di domino che nella mia rivista è dedicato esattamente a questa roba qua si titola gotico americano e prova proprio a scandagliare a scavare questo sentimento qui mi fermo però come diceva il memico Augusto se ci sono vostri interventi li ascolto volentieri grazie 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 Dario grazie al pubblico che è stato in silenzio e molto attento adesso se c'è qualche speriamo qualche domanda per sollecitare il relatore magari ad ampliare qualche concetto che ha soltanto magari non proprio approfondito basta alzare la mano e diamo il microfono penso arriviamo subito grazie vediamo un po' chi è il primo eccomi lei ha detto che l'Europa dovrebbe rientrare nella storia ma invece che con l'aumento degli armamenti dovrebbe rientrarci aspetta scusi perché il relatore non la vede tu si ma io ecco 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 adesso la vediamo scusi è importante vedere chi parla diceva lui che l'Europa dovrebbe rientrare nella storia ma io ritengo che dovrebbe rientrare più che con l'aumento degli armamenti acquistando una fisionomia nella diplomazia però forse non è possibile perché l'Europa è una realtà già in declino prima ancora che è partita grazie grazie a lei diciamo l'Europa non è proprio una realtà proprio ad essere fino in fondo non è che esiste l'Europa non è uno Stato anche su questo ci hanno molto confuse le idee perché poi l'Europa gioca a fare lo Stato fa finta di avere un Parlamento fa finta di avere un governo fa finta che esiste il popolo europeo fa finta che nel mondo si parli inglese il Parlamento Europeo chiama le sue leggi con nomi inglesi anglofoni act cose da perdere la testa questo contribuisce i popoli europei che invece esistono esistono e come anche per questo si trovano alcuni qualche popolo europeo è più popolo degli altri quindi il nostro è in difficoltà anche su questo oggettivamente quello che lei dice è parzialmente vero adesso io non so che significhi diplomaticamente è difficile essere diplomatici quando gli altri sparano però si può tutto voglio dire e vista la nostra età difficile anche immaginarsi recuperarsi alla storia è molto complesso anche perché ripeto i popoli europei hanno idee molto diverse del mondo confliggenti che non si armonizzano mai non che questo debba renderci felici ma oggettivamente ma oddio oggettivamente forse è troppo a me pare un dato di fatto ecco mettiamola in questo modo grazie intanto ci sono altri interventi forse un altro paio possiamo prenderli sì un altro paio allora la domanda è la seguente e ha sempre esposto in maniera corretta che il presidente degli Stati Uniti è un reduttore di complessità quindi io anche alla luce della spaccatura che c'è all'interno degli Stati Uniti e di questo nuovo asse tra gli abitanti del Midwest e del Sud quale sarà il ruolo degli apparati americani bella domanda in questo nuovo quadro e chiudo brevissimamente se il dominio tecnologico può nel medio lungo periodo sopperire a una crisi demografica anche in relazione all'età mediana grazie grazie a lei sono domande troppo difficili troppo complicate gli apparati quelli che Trump chiama in maniera spregiativa lo Stato profondo che non significa niente semplicemente i ministeri e soprattutto la loro tecnostruttura hanno negli Stati Uniti come altrove sempre la stessa funzione cioè gli apparati di uno Stato a che cosa servono non è tanto l'aspetto tecnico ma anche spesso la tecnica degli apparati è superata è superabile spesso in tanti casi non sanno fare niente in altri casi sono più capaci eccetera non è questo serve come diaframma davanti alle pulsioni della società gli apparati servono per la continuità dello Stato quindi servono a produrre delle risposte a ciò che capita senza farsi prendere dall'incontinenza emotiva cioè se non vi fossero e semplicemente uno Stato seguisse i momenti dell'opinione pubblica sbanderebbe cioè cambierebbe direzione ogni 3 4 5 10 anni questo non è possibile questo non è possibile dovete immaginare come gli apparati dello Stato con una forma di paternalismo come fa un genitore quando o dovrebbe quando davanti ad un figlio adolescente questo un giorno diciamo da grande voglio fare boh non lo so il pittore poi un anno dopo però sai che c'è ho scoperto che mi piace più mollo tutto e voglio fare non lo so dico mentre cretinate l'avvocato quello che vi pare a voi dice come molli tutto cioè hai iniziato un percorso dove vai oppure vuole lanciarsi in un contesto dove è impossibile che possa primeggiare o semplicemente avere una carriera o un futuro e allora il genitore dice aspetta no eccetera ecco gli apparati hanno questa funzione confruttore pubblica che un giorno è delusa e si sveglia e dice andiamo tutti a casa no oggi i sondaggi degli americani dicono torniamocene tutti a casa sono maggioranza nei sondaggi ma non lo possono fare non è che gli americani possono lasciare le basi il mondo così com'è perché nel momento stesso in cui lo abbandonassero il pianeta i nemici li seguirebbero dentro casa cioè nel momento in cui un impero globale che è si è creato nemici su nemici non è che si arriva alla cima facendosi amici no ci si arriva facendosi dei nemici anche con enorme rancora appena tu segnali che sei talmente stanco che te ne torni a casa non è che ti dicono va bene è stato bello è andata così cioè ti vedono andare verso casa ti vengono dietro ti vogliono colpire mentre vai dentro casa gli apparati stanno lì per dire non si può fare gli apparati in questo caso proveranno a mantenere questa continuità esprimono il sentimento di un paese più maturo perché ha sbattuto la testa fortemente contro il mondo più maturo di 20-30 anni fa quindi tendono ad essere più conservativi e anche più conservatori a dire la verità nelle cose del pianeta tradotto in termini mangiabili non dicono ah è successo questo nel posto Y non interveniamo come avrebbero fatto 30-40 anni fa hanno detto no dicono aspetta fa intervenire qualcun altro vediamo come si mette ne parliamo domani ragioniamo questo ruolo continueranno ad averlo e l'America profonda li odia perché secondo l'America profonda gli apparati nei quali mettono anche i media quindi non solo gli apparati securitari ma anche i media quelli culturali che ci hanno raccontato un mondo che non esiste colpa loro ci hanno mandato al mondo per ritrovarci delusi però continueranno almeno proveranno a continuare ad avere questo ruolo se il dominio tecnologico può supplire mi sembra di aver inteso fosse questo il senso della domanda lo scadimento demografico beh dipende in quali contesti questo è il grande tema del Giappone praticamente noi siamo il paese più vecchio del mondo come l'Italia però sostituiamo siccome sono razzisti da morire i giapponesi non vogliono nessuno straniero devono dire no adesso diventeremo 100 milioni il Giappone sta andando verso i 100 milioni di abitanti ma che ci importa sostituiamo un po' con l'intelligenza artificiale un po' con i robot gli esseri umani che non avremo io credo che questo non possa mai bastare cioè il fattore umano che non è una questione numerica non è quantitativa è una questione qualitativa non possa esistere o almeno non se ne possa fare a meno l'intelligenza artificiale che va tanto di moda perché è molto cinematografica scenografica ci fa impressione l'intelligenza artificiale oggi non è intelligente cioè è semplicemente una capacità eccezionale nettamente superiore alla nostra di fare calcolo non di pensare non è un dettaglio tutta l'intelligenza che noi conosciamo è un'accumulazione di dati quindi se noi riusciamo anche il migliore di noi ad avere una memoria che arriva fino ad un certo punto negli anni un calcolatore riesce ad avere una memoria assoluta cioè tutto ciò che viene immesso lo sappiamo il calcolatore è così l'intelligenza artificiale la memoria resta perfetta cioè tutto ciò che viene immesso nel calcolatore rimane noi non è che tutto ciò che abbiamo visto o sentito in tutti i minuti della nostra vita ce lo ricordiamo come è ovvio il calcolatore sì e te lo ripropone ma non sa inventare quindi non può sostituirci almeno finché non riuscirà in questo e non ci riesce nessuna parte dell'intelligenza artificiale che conosciamo riesce da questo punto di vista poi il programmatore se divertito non so chi di voi ha avuto a che fare con già GPT a mio avviso la parte più divertente è quando inventa quando ci sono delle cose che non sa perché non sono stati immesse quindi sono tutti divertiti che da un certo punto mi racconti il finale di questo film il finale non gli è stato immesso se volete provare e comincia a prendere tempo ti scrive cose che sembrano uscite da uno slogan di quarta categoria di una rivista patinata il finale avvincente con un colpo di scena no no ma che succede però il finale mi dispiace dirtelo io no no io lo voglio proprio sapere l'ho già visto il film ma che succede insisti continua a prendere tempo e alla fine inventa per smarcarsi a me è capitato gli dici ma allora muore X che non muore dice sì purtroppo sì mi ha scritto io ho trovato la parte davvero affascinante ma dopo tu gli dici ma guarda che non è vero e ti chiede scusa non so se ce l'hai mai provato dice scusami hai ragione mi serve per migliorare perché che cosa è successo che non ha l'informazione non gli è stata immessa non gli hanno detto come finisce il film non può avere tutta ancora tutte le informazioni parlo comunque della versione gratuita e ti dice però adesso lo so quindi se tu ci torni tu o qualsiasi altro utente tra un secondo gli chiedi come finisce il film lo sa ma perché gli hai detto tu cioè l'intelligenza artificiale ancora poi ci aiuta in mille cose ma non può sostituirci se non sognando in un film di fantascienza ma ancora non può sostituirci non so se c'è un'ultima domanda vedo una ce n'è una anche qui grazie buonasera volevo giusto chiedere qual era e qual è secondo lei sono qua ah ecco io guardavo lì qual è secondo lei il ruolo degli Stati Uniti d'America nella questione lo dico in modo molto generale medio orientale non mi riferisco solo ai recenti fatti e prima ancora la crisi israelo-palestinese ma anche proprio al proliferare tra virgolette di alcuni stati come possono essere gli Emirati Arabi Uniti che incontrano il favore della Cina e della Russia dall'altra parte dell'Arabia Saudita qual è il ruolo degli Stati Uniti d'America davanti comunque a uno scenario geopolitico che anche sotto il profilo economico sta incontrando chiamiamola così in modo improprio una rivoluzione e poi in che senso una rivoluzione? nel senso che comunque sta diventando una parte del mondo dove confluisce un livello di tecnologia molto elevato dove iniziano a confluire confluiscono da tanto tempo dei capitali molto importanti in Medio Oriente diciamo? in Medio Oriente ok e in definitiva poi per concludere anche questo intervento visto che comunque abbiamo visto gli Stati Uniti interessarsi anche questo lo dico impropriamente di tanti conflitti e di tante situazioni geopolitiche nel mondo quanto ancora secondo lei avrà questa capacità di impatto di poter andare a intrufolarsi in giro per il mondo grazie anche questa è una domanda molto complicata parto dalla coda che è quello che dicevo prima l'algoritmo che mi suggerisce sempre Augusto è quello del non so che è una forma anche socratica so di non sapere cioè non ne ho idea nel senso io credo ma come dicevo è un indovinello istruito il mio cioè credo che gli americani davanti alla minaccia davvero concreta della loro primazia troveranno il modo di reagire non ne posso essere certo ma penso di sì in Medio Oriente è un discorso a parte in fondo gli accordi di Abramo di cui avrete sentito certamente parlare formalmente sono accordi che vedono il mutuo riconoscimento cioè quindi uno scambio di legazioni tra Israele e le monarchie arabe non solo ma soprattutto del Golfo Barei in Emirati Arabi stava per firmare anche l'Arabia Saudita che è guidata da un signore che ha tanti pregi adesso non ne saprei dire nessuno ma comunque che si chiama Mohammed Bin Salman che è un principio ereditario odio uno ce l'ha spazzolizza la S Roma e come tu sai Augusto questa è una cosa che ci rende tra l'altro sta pareggiando non so se vi può interessare mia figlia mia figlia mi aggiorna in diretta ma di là delle mie sciocchezze anche l'Arabia Saudita aveva annunciato tramite il suo principio ereditario lo scorso agosto siamo per firmare gli accordi di Abramo e questo ha scatenato la reazione iraniana non a casa arriva il 7 ottobre l'attacco di Hamas viene indotto oltre che dal partito palestinese anche dall'Iran per queste ragioni ma gli accordi di Abramo sono stati pensati dagli americani sono gli americani che dicono riconoscete Israele alle monarchie del Golfo ma perché? perché noi ce ne andiamo secondo gli americani nel momento che noi vogliamo andarci al Medio Oriente abbiamo altre cose a cui pensare siamo un esportatore netto di petrolio gli Stati Uniti da molti anni esportano petrolio sono il primo produttore di petrolio del mondo noi ce ne andiamo arrivederci state benissimo poi in realtà non se ne possono andare stanno ancora lì ma questo è un altro discorso però hanno nettamente diminuito come ben sappiamo la loro impronta che cosa dicono gli americani dicono fatevi proteggere da Israele voi monarchie arabe che avete paura dell'Iran mettetevi sotto la gonna di Israele che vi protegga Israele che è l'unica potenza nucleare della regione della superpotenza militare della regione e questo genera poi l'attacco contro Israele perché l'Iran attraverso Hamas vuole umiliare la deterrenza di Israele ciò a cui è servito per l'Iran Hamas l'agenda è un'altra ma non è il caso la lasciamo da parte almeno per oggi l'agenda dell'Iran è dire guardate che basta un'organizzazione paramilitare come Hamas che mediamente non è capace a fare niente come tutti i sanni in Medio Oriente ma se la foraggiamo e la destriamo noi iraniani guardate cosa fa mette in ginocchio per 24 ore la superpotenza militare della regione e dunque il messaggio per le monarchie arabe firmatarie o teoricamente in procinto di il messaggio era questo siete così sicure care monarchie arabe sunnite che vi convenga farvi proteggere da Israele dice teirani io ci penserei un paio di volte gli americani osservano tutto ciò sapendo che questi accordi nascono da loro dire noi ce ne andiamo vedetevela fra di voi sapendo che non se ne possono andare ma mantengono un ruolo di bilanciamento più o meno da remoto che poi remoto in realtà non è perché poi stanotte gli americani intervengono per distruggere i droni iraniani ma più o meno da remoto perché dicono noi adesso non ci fate pensare anche al Medio Oriente c'è l'Ucraina c'è la Cina soprattutto ci manca solo il Medio Oriente quindi per rispondere alla sua domanda che tipo di capacità di inserimento e di reazione bassa agli americani in Medio Oriente per scelta però a differenza che nel resto del mondo dove faticano proprio per quel malessere di qui sopra in Medio Oriente lo fanno in maniera più scientifica dire non ce la possiamo fare finché possiamo fate voi infatti ogni giorno ci richiama la cautela di Israele come a dire non ci complicate la vita strategicamente Israele resta la potenza preeminente del Medio Oriente anche se sta perdendo male tatticamente la guerra di Gaza ha straperso la parte mediatica della guerra questo capita spesso a Israele però gli americani dicono agli israeliani guardatevi intorno nessuno vi può sfidare a meno che diranno si doti della bomba atomica ma garantisce Washington se arrivasse davvero vicino la bombarderemmo insieme e questa è più o meno la linea tattica che mantengono nella regione non so se abbiamo concluso così penso di sì allora grazie Dario ringraziamo il signore e il signore sono stati eccezionali davvero grazie bravi bravissimi grazie a tutti io non parlo pianissimo quindi me ne sono accorto troppo tardi quindi chiedo scusa spesso parlo troppo veloce bene grazie a tutti grazie dell'attenzione e vi aspettiamo stasera c'è l'ultimo appuntamento con Battiston alle 21 e grazie a tutti e grazie per averci seguito grazie grazie come sempre